ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv leggeremo insieme i giornali il resto del carlino il corriere adriatico sulle pagine locali vediamo subito il santo del giorno leggendo il l'almanacco l'almanacco che ci evidenzia santa maria bertilla boscardin visse tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo nacque nel 1888 in un paesino della provincia di vicenza fattasi suora dedicò molto della sua vita agli ammalati come infermiera e fu veramente un punto di grande riferimento per chi soffriva durante le incursioni aeree della prima guerra mondiale nell'ospedale di treviso morì nel 1922 anch'ella consumata da un brutto male che purtroppo lei stessa manifestò troppo tardi e quindi non ci fu nulla da fare vediamo le previsioni del tempo ancora vediamo un punto incerto un tempo incerto su tutta la regione cieli in prevalenza nuvolosi con nubi in aumento in serata fino a molto nuvolosi e poi anche deboli piogge i venti saranno forti il mare è mosso le temperature da 21 a 29 gradi e il sole sta per sorgere alle 7 e 31 di questa mattina alle 18 e 19 il tramonto questo per quanto riguarda le previsioni quindi avremo un fine settimana un po perturbato ma comunque le temperature in modo particolare nella provincia di pesaro urbino si mantengono piuttosto alte stamattina c'era un garbino che insomma manteneva la temperatura molto mite e allora apriamo i giornali a partire dal resto del carlino sulla pagina di fano vediamo l'apertura come poi è lo stesso nel corriere adriatico dedicata a monte giove e al monastero dei frati trappisti perché dopo il terzo tentativo il consiglio comunale di fano ha approvato la variante che rende possibile la trasformazione dell'area in oggetto da area agricola in area che in cui si può costruire fano trappisti c'è via libera al monastero è stata approvata la variante è stata approvata grazie a molte astensioni del centrodestra ha votato contro soltanto un esponente del di in comune carla luzzi più il gruppo consigliere consigliare dei cinque stelle che hanno continuato la loro opposizione il centrodestra si è astenuto ovviamente il resto della maggioranza non tutto forse ha votato a favore comunque i voti ci siano stati per far passare questa delibera ovvia la soddisfazione del presentatore della delibera stessa il vice sindaco cristian fanesi che è stato uno dei principali sostenitori della volontà dell'accoglimento della richiesta dei frati trappisti di trasferirsi in monte giove in questa oesi di pace e di tranquillità e e quindi respingere le opposizioni degli ambientalisti un sostegno dicevo l'ha dato con la sua astensione anche il centrodestra da quando il onorevole antonio baldelli di fratelli d'italia ha appoggiato la delibera e anche antonio baldelli esprime la sua soddisfazione oggi sui giornali dicendo ha vinto il buonsenso una grande opportunità per la città della fortuna i monaci trappisti sono custodi del territorio hanno già ristrutturato una casa colonica le sue pertinenze destinandole a foresteria oltre ad avere stretto accordi con aziende locali per l'agricoltura quindi avranno anche il compito di custodire il territorio una vicenda che si è prolungata dal 2014 che ora è giunta ad un punto determinante del suo iter burocratico che però continua continua con tutte le formalità che hanno le varianti quindi le osservazioni le contro deduzioni le approvazioni da parte degli organi superiori e quindi l'approvazione totale definitiva dal consiglio comunale probabilmente si andrà anche alla prossima tornata amministrativa e vedremo se si giungerà veramente alla conclusione comunque i fratti trappisti sono pronti per insediarsi a monte giove sul caso del bollette dell'acqua ebbe c'è stato un brutto riscontro a quanto avevano sperato che accadesse il movimento 5 stelle bene comune nell'annunciare il la vittoria di fronte al tribunale di pesaro in merito al ricorso che un cittadino aveva fatto per riavere i soldi che l'aset aveva imputato nelle bollette quali aumento per i consumi dell'acqua un aumento retrattivo delle 2018 hanno vinto ha vinto questo cittadino di fronte al giudice di pace ha vinto dopo il ricorso di aset anche di fronte al tribunale di pesaro ma l'aset cosa fa ebbene fa ricorso alla cassazione e quindi al momento non ci sarà alcun rimborso e tutti quei cittadini che speravano che la vittoria di questo di questa staffetta di questo avanguardista voglio dire che è andato avanti ebbene dovranno ancora aspettare l'esito della magistratura sul caso bollette dell'acqua salata zaset non molla e avvia il ricorso vedremo come andrà a finire e poi il resto del carlino parla del centro studi vitruviani questa importante istituzione culturale della nostra città che si sta facendo valere anche a livello nazionale anzi io direi internazionale perché nel comitato scientifico del centro studi fanno parte anche studiosi che appartengono ad altre nazioni in quanto vitruvio è veramente un portabandiera della cultura occidentale ma anche dell'architettura del nostro territorio che poi è stata esportata in tanti paesi del mondo vedete l'america per esempio la casa bianca il campidoglio veramente sono strutture di sapore palladiano che poi derivano sempre da vitruvio vitruvio il rebus basilica centro studi avanti tutta e il titolo prosegue l'interesse della prestigiosa istituzione presieduta da dino zachilli nei prossimi giorni eventi che si concentreranno in quella che fu la città romana ebbene la presentazione del terzo numero della rivista vitruvius per il corso ed il corso di alta formazione vitruvio summer school 2024 saranno le due grandi iniziative del prossimo anno intanto intanto il secondo numero quello che porta la data del 2023 è stato presentato a livello nazionale ed ora sarà presentato di nuovo venerdì 3 novembre alla memo un'occasione per parlare di due temi molto interessanti la basilica di vitruvio a fano in un manoscritto di vincenzo nolfi una uno studio di oscar mei e poi il tempio della fortuna di fano tra il sedicesimo e il deciasettesimo secolo scritto da michele tagliabracci noto operatore della biblioteca federiciana e poi sempre a novembre il 24 il centro studi sta preparando un simposio internazionale dedicato a vitruvio nei paesi nordici sì perché anche nei paesi nordici svezia norvegia finlandia ebbene vitruvio è molto conosciuto e anche molto imitato il centro studi poi concluderà le attività dell'anno in corso nella prima decada di dicembre con la presentazione della carta archeologica di fanon fortune realizzata grazie ad un assegno di ricerca finanziato dal centro studi stesso e dalla università degli studi di urbino una carta archeologica che al momento stabilisce lo stato di fatto ma che ovviamente poi si arricchirà di tanti altri trovamenti perché ogni volta che a fano si scava qualcosa si trova un reperto di epoca romana tanto è rica la città ancora di testimonianze che si sono conservate nel sottosuolo giriamo la pagina e vediamo come un peschereccio affondato nel porto di fano è lì da tanto tempo e nessuno lo tira fuori dovrebbe tirarlo fuori il proprietario ma lui non lo fa e per questo è stato è stato denunciato alla procura dello scafo di quello che era il nettuno adesso emerge soltanto il tetto della cabina lo vediamo qui il tetto della cabina questa è la dassela del porto peschereccio di fano il peschereccio è circondato da queste bande per evitare dispersioni di elementi inquinanti a distanza di due mesi a ancora nel fondale il natante è il natante che lungo una ventina di metri e giace appunto e non viene tirato fuori nel frattempo la delicata questione è finita nelle mani della procura l'assessore fanesi per il recupero dell'imbarcazione stiamo facendo formulari preventivi dato che il proprietario non lo fa lo farà il comune e poi cercherà di rivalersi nei confronti di questo proprietario che non è un fanese sembra che sia della calabria ma comunque si è completamente disinteressato della cosa comincia la stagione di prosa del teatro della fortuna il teatro della fortuna riapre dopo lunghi lavori di ristrutturazione di miglioramento per quanto riguarda l'assetto ambientale e c'è un avvio subito super ebbene è una commedia molto molto diciamo così molto come dire in procinto di ottenere il gradimento del pubblico con lino guanciali e francesco montanari sul palco con l'uomo più crudele del mondo questo è il titolo della commedia la commedia inaugurerà la stagione del teatro della fortuna che appunto riapre dopo cinque mesi di chiusura la presidente della fondazione teatro della fortuna katia amati dice un weekend da tutto esaurito il cartellone è piaciuto molto questo il giudizio appunto della presidente e per quanto riguarda colli al metauro vediamo che laura valentini è stata nominata presidente provinciale di italia viva si tratta di una ventiquattrenne consigliera di opposizione nel suo comune e coordinatrice provinciale uscente del partito di matteo renzi insieme a federico talè ha avuto la meglio come per quanto riguarda le elezioni sull'altro candidato matteo palma l'altro candidato alla presidenza e veniamo a terre roveresche dove si parla di una famiglia di una famiglia prolifica ma di una famiglia anche che ha fatto molto molto per il progresso della società gli annales della famiglia sbrozzi la famiglia in un libro in arrivo è un ricco volume che racconta la storica casata di orciano una casata che ha avuto degli esponenti illustri sono usciti personaggi di primissimo piano come gabriele sbrozzi primo segretario generale del porto di genova dino sbrozzi docente di agricoltura a padua e autore della bonifica di estese zone nei comuni di cervia e di cesenatico e poi come non ricordare emilio sbrozzi medico condotto per oltre 50 anni a dorciano dal mille fino al 1952 che è stato insignito dal comune di allora della medaglia d'oro e domani verrà presentato in anteprima il volume gli sbrozzi a orciano di donatella grimaldi nipote appunto di anna sbrozzi grimaldi l'appuntamento è alle ore 17 all'auditorium santa caterina in piazza garibaldi a orciano a urbino si parla di tumori al seno prevenzione tumori la breast unit è essenziale la breast unit dell'ospedale di urbino ha ripreso la sua attività la notizia che riguarda il reparto di senologia è dell'altro ieri e arriva in concomitanza con il mese della prevenzione al tumore al seno appunto che è il mese di ottobre l'ottobre in rosa dove un po' in tutti i centri della provincia e anche della regione Marche si svolgono iniziativa per sensibilizzare le donne alla prevenzione ad una prevenzione che dovrebbe essere precoce perché queste malattie possono essere curate se si prendono fin dall'inizio e quindi bisogna fare controlli assidui e costanti via i cavi volanti dal centro storico di urbino grazie ad un accordo tra enele comune tutti questi cavi volanti nelle facciate delle chiese nelle facciate dei palazzi questi cavi che attraversano le strade hanno un impatto estetico veramente brutto ed ora urbino che tiene molto alla sua immagine ha deciso appunto di toglierli magari di interrarli oppure di metterli in un modo che siano meno visibili il progetto parte con la rimozione di tutte queste strutture da via Barocci un'operazione comunque lunga e complicata avviata in collaborazione con gli studenti dell'ITIS l'ITIS Enrico De Mattei i ragazzi di elettrotecnica hanno partecipato direttamente alle prime operazioni quindi anche il coinvolgimento degli alunni della scuola e poi ancora sul resto del Carlino un'altra presa di posizione di un tecnico si tratta di Michele Felici già dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Urbino che spende appunto una parola per evitare la demolizione della scuola della scuola di Piobbico in questi giorni scade il termine per l'appalto della costruzione della nuova scuola il che significa la demolizione di quella vecchia una scuola costruita nel 1979 direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione secondo un progetto sperimentale e molto innovativo in Italia perché oltre a comprendere spazi accessori come un auditorium per svolgere bene la sua funzione didattica aveva una struttura in ferro veramente innovativa che nel tempo aveva dimostrato senza alcun problema dei valori eccezionali e quindi secondo Felici abbattere questa scuola sarebbe veramente un delitto Magrini è presidente dell'ERDIS di Urbino nel rispetto della legge regionale il sindaco di Urbino Gambini ha replicato alle polemiche per la elezione di questa figura farla decadere sarebbe un attacco politico alla città ha detto il primo cittadino questo per quanto riguarda la pagina di Fano e dell'entroterra pubblicate dal resto decadino diamo un'occhiata anche alle notizie che riguardano Pesaro si parla sempre di tutela dell'ambiente cemento sul San Bartolo spunta l'ipotesi billette e c'è una battaglia dei residenti la Falesa è a rischio ebbene il parco del San Bartolo deve essere protetto in tutti i sensi a Catabrighe stanno raccogliendo le firme contro l'installazione di una seconda antenna queste antenne che prolificano un po' da tutte le parti ebbene questa antenna dovrebbe essere secondo i verdi dovrebbe essere bloccata ma soprattutto anche secondo i residenti e i verdi intendono bloccare anche una possibile lottizzazione che prevede la costruzione di una serie di casette in un'area che è stata oggetto di valori di lavori di consolidamento della Falesia e quindi un'area che dovrebbe essere rispettata ecco perché c'è questa alzata di scudi per evitare questo nuovo impatto ambientale la follia di Ferminiano quel cittadino che è stato aggredito barbaramente per aver redarguito un'automobilista che viaggiava ad alta velocità gli ha detto semplicemente vai piano l'ultimo vi ricordate è sceso e lo ha preso a martellate rendendolo in uno stato pietoso e qua vediamo l'immagine dell'aggressore si tratta di Simone Babbini che ieri è andato in tribunale per la convalida dell'arresto ovviamente l'arresto è stato convalidato il GIP lo lascia in carcere comunque lui non ha proferito parola ha preferito tacere ed ora è stata applicata questa azione punitiva in quanto viene considerato capace di reiterare il reato di rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità altrui quindi un fatto veramente importante prende in largo la polemica Pesaro per la pista di ghiaccio che non verrà più installata in piazza del popolo ma in un altro luogo della città insorge Ippaso Davide Ippaso che è stato recentemente nominato direttore della Confesercenti lontano dalla piazza sarà una perdita della città dice Ippaso spostare la trazione vicino alla statale significa penalizzare tutte le attività in quanto la pista di ghiaccio costituisce un'attrazione importante per tanti cittadini i quali poi possono naturalmente visitare i negozi vedere le vetrine passeggiare nel centro ricordiamo il flop della ruota in quella zona dice Ippaso e quindi pone sull'attenti l'amministrazione comunale a Urbino il sigillo di Ateneo è stato consegnato è stato consegnato all'imprenditore della Fiam Vittorio Livi il quale si è sentito molto gratificato di questo onore tributato dalla Università il sigillo è uno dei massimi riconoscimenti che l'Università di Urbino dedica a coloro che si sono distinti appunto per l'imprenditoria la cultura l'ambiente insomma tutti gli aspetti più importanti della vita di oggi che emozione il prossimo premio ma mi basta così perché veramente di soddisfazioni dice Olivi ne ho collezionate tante 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 e per quanto riguarda l'assemblea della Confindustria che si svolta l'altro giorno nasce l'idea di realizzare nella regione Marche un termovalorizzatore al sindaco di Venezia Brugnaro che era presente all'assemblea le associazioni ambientaliste si trovano nel nord le associazioni ambientaliste che si trovano nel nord Europa dove sono più più potenti ebbene nonostante questo nel nord Europa c'è la più grande densità di termovalorizzatori secondo appunto il sindaco di Venezia significa che là dove si protegge veramente l'ambiente il termovalorizzatore è una struttura efficace e quindi anche questo potrebbe avvenire nelle Marche ma ovviamente è un problema questo che verrà dibattuto all'infinito e intanto parliamo ancora di riceci chi era con il vescovo Foschi Elisabetta Foschi troppe le istituzioni assenti ma chi vuole davvero la discarica il commissario di Forza Italia è assessore di Urbino Elisabetta Foschi e testimonia io ero lì ma senza il mandato del comune per esserci insomma le istituzioni a parole dicono una cosa poi nei fatti magari ne fanno un'altra ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico ci rimane poco tempo ma abbiamo il modo di evidenziare l'articolo di apertura della prima pagina dato che quello nella seconda pagina l'abbiamo già illustrato è appunto la deribera di Montegiove che approva la istituzione del Convento dei Trappisti mentre nella prima pagina abbiamo un approfondimento di una notizia che era già apparsa nei giornali però in questo caso viene approfondita si tratta di un'azione fatta dai carabinieri che hanno facevano delle indagini per quanto riguarda un furto compiuto in una casa hanno individuato il ladro hanno individuato anche il bottino si tratta di oggetti vari oggetti di antiquariato ma hanno trovato anche un fucile non denunciato è un fucile da caccia e anche il proprietario non aveva fatto alcuna licenza di caccia arrestato dei carabinieri unfanese rinvenuta refurtiva di ogni genere pezzi di antiquariato tra cui un lampadario tre candelabri un'immagine sacra in ceramica articoli di arredamento in ottone e in rame vediamo qui alcune immagini di questi di questi articoli e poi abbiamo anche delle armi qui abbiamo una katana una sciabola tipo giapponese e qua abbiamo il fucile che è stato rinvenuto e che non era stato denunciato un'altra notizia di cronaca riguarda un atto persecutorio compiuto da una donna di 60 anni nei confronti di un'altra donna a cui aveva spedito lettere anonime con una fotografia e il disegno di una bara la foto era quella del figlio con tanto descritta rip insomma una cosa di cattivo gusto ieri si è presentata davanti al group questa donna di fano accusata di atti persecutori nei confronti di una della nuova compagna del suo ex e quindi probabilmente era motivata dalla gelosia e poi si finge un vecchio collega che questa è un'altra notizia di cronaca e sparisce con 600 euro un truffatore già conosciuto alle forze dell'ordine ha preso di mira un anziano e gli ha spillato dei soldi e gli ha anche così venduto 12 giubbotti di pelle per 90 euro e poi gli ha preso 500 euro motivandolo convincendolo a recarsi al banco ma a prelevare la cifra sono che i personaggi che hanno una parlantina si fingono amici hanno così dei punti di collegamento dei trascorsi e poi veramente il loro fine è quello del furto della rapina e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto